L'Alleanza del Parlamento Europeo contro la fame e la malnutrizione si è sempre impegnata a mantenere al centro del dibattito internazionale l'importanza della sicurezza alimentare e la lotta contro la fame, tema che in queste settimane si è dimostrata di primaria importanza anche a livello europeo. Come striver a un vero climatico e migliore che è basato su un utilizzo di sviluppo dei nostri fondamenti. Mi comprometto a lavorare dal Parlamento Europeo per che la Commissione Europea lidere la luce internazionale contro il cambio climatico per ottenere i obiettivi del Parigi. Settemi un'unica politica nuvrì e migliore e migliore di un'unica politica europea, ma anche il mondo, su tutto l'impressione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.